benvenuti e benvenute sono green vanship terzo e ultimo episodio di crossy road e sono già finito sotto una macchina ma vabbè allora ragazzi ne vedremo delle belle come in ogni episodio di questo videogame che per me è un mistero nel senso che abbastanza imprevedibile non riesco mai a eccolo lì non riesco mai a capacitarmi di quello che può succedere in questo videogioco ma apriamo un regalo ok 85 crediti che cosa ci possiamo fare possiamo vincere un premio forse sì sì perché un premio vale 100 gettoni quindi vediamo che cosa riusciamo a recuperare da questa da questa vincita il pollo festeggiato il pollo festeggiato perfetto ma guardate adesso usiamo direttamente quello e vediamo cosa succede a partono le stelle filanti i palloncini ok ok potevo evitare il treno ma va bene potevo evitare il treno adesso con calma ci sono coriandoli ovunque sembra il carnevale sembra un carnevale sul serio ci sono i palazzi che ballano le persone che saltano e gli animali che fanno festa quindi va bene posso recuperare qualche gettone facendo così posso anche recuperare i gettoni che bello no no aspetta aspetta vai su vai su vai su prima che arrivi l'aquila è arrivata l'aquila va bene ricominciamo anche i tronchi ci sono vai vai meno male me la sono vista bruttissima quel fiume aspetta aspo ecco bene dovevo spostarmi vai vai salta sul vai perfetto ci sono i regali che posso superare si sono esplosi sono esplosi i regali va bene sono sono esplosi i regali tronco tronco mamma mia aspetta aspetta un attimo aspetta un secondo per un soffio un soffio c'è mancato ce l'ho fatta anche qui per un pelo non so come non voglio saperlo e sono finito dentro nel fiume sono finito nel fiume che cosa ho schivato mamma mia no dovevo aspettare un attimo in più stelle filanti palloncini tutto tutto mamma mia ho schivato un auto che non so neanche io come ho fatto prendiamo il gettone scusami bene aspetta un attimo aspetta un attimo attraversa tutto prendi anche il gettone allora proviamo per curiosità ad arrivare a 100 non credo che ci riuscirò mai però però io ci provo siamo a 90 91 possiamo anche farcela 98 lì c'è il record vedete voi si si abbiamo superato il 100 basta posso concludere la serie felice ecco mi sono mi sono spiattellato contro la portiera di un'auto comunque il pollo festeggiato ha portato bene perché siamo sono riuscito a superare di un po' la barriera dei 100 saltelli dei 100 balzi quindi mi dichiaro soddisfatto posso chiudere la serie col sorriso tanto adesso non ci riuscirò mai più ad arrivare a 100 mai più in compenso apro un regalo vediamo che premio c'è un pony c'è un pony questo cos'è ah scusate sono andato sulle impostazioni ok però ragazzi a questo punto il gioco lo abbiamo un pochino esplorato abbiamo provato anche diversi personaggi direi che possiamo concludere quindi vi ringrazio per avermi seguito spero che la serie e il videogame vi siano piaciuti iscrivetevi al canale mettetemi un bel mi piace commentate condividete andate a fare un giretto sui social trovate il link in basso in descrizione e noi ci vediamo più avanti con nuove serie nuovi video buon proseguimento a tutti Oh wow 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 okay wow